Telemarket ha chiuso, è solamente una piccola appendice e poi tutto questo magico mondo finisce e poi chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato Arrangiatevi Lo vedete? Questo è il dore, potere e ricchezza Non hanno una tela computerizzata Dio è il più grande artista al mondo Poi naturalmente vengo preso in giro Beh, una volta l'assistino a una scultura Certamente Vengo preso in giro da Guzzanti, vengo preso in giro dai miei colleghi Tom Cruise Quello che piace a me non deve piacere a voi E' presente quando fai puzzle con le tessere, ma sei aiutato dal disegno, dal colore Questo è tutto ad oro, è molto più difficile, come la vita è difficile L'artista più importante non si chiama Fontana, Burri, Castellani, Boetti, Pistoletto, Amanzoni Cunellis è stato uno solo, Mario Schifano Lo posso urlare? I milanisti sono i più bravi, gli interisti, i gioventini o quant'altro non sono capaci di intendere Guardate eh, state a vedere Guarda, guarda, guarda Guarda che cosa fa, guarda Guarda Fermo, fermo Già cambia, non lo vedi? Guarda, guarda, guarda cos'è Guarda ora, guarda adesso Mamma mia, mamma mia Leve Oh, è una cosa fantastica Ma però non lamentatemi Non dite che non siete stati capaci Sai il famoso film Terminator? È nato 30 anni fa Mamma mia, va bene Questi sono logi che stanno andando molto forte e molto di moda Devo spiegare queste cose, farei volentieri a meno ma lo devo fare Ma sai io Non ho capito Non ho capito Non ho capito Carrellate infinite di centinaia di migliaia di tappeti Orlando, lasciami in pace, ne ho già presi 3, 4, 5 dei orologi C'è una signora che ne ha presi 30 prima, chiaro? E più è duro, la scarpa non consuma, chiaro? Stock market, 900 euro l'uno Non cash, ma da scontare ancora Prima prenota e poi pentiti Qualora ci fosse stato un salto di filo, un salto di trama O un piccolo difetto Habibian bruciava il tappeto 600 giorni di lavoro Queste sono le sciacquadite Mi arresti, mi fa sciacquare le mie Ah, sì ma io ma sono Certo Eh lo sai Io lo sai, me le sciacquo al torrente le dita io Io sono enormemente, veramente emozionato Perché mi sembra di tornare indietro nel tempo Nemmeno collezionisti Zero Zero Ma, meglio che sto zitto Stasera mi state facendo proprio arrabbiare Buongiorno, dottor Tanghetti Buongiorno, buongiorno 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 Grazie Buongiorno Buongiorno